Buongiorno, Anita. Ti ricordi che giorno è oggi, vero? Tu vivi a San Paolo, eh? Dai, beh, raccontami qualcosa. Sì, sì, a San Paolo sono tutti in appitto. Ho cambiato lavoro. Adesso tocca a te, squinternata. Dì la verità. La tua vita è una merda, eh? Anita, chi sta succedendo qui? Se potessi fare un control z della mia vita, farei tutto diversamente. Ora ti svegli. Sveglia, tianita. Sveglia, sveglia, sveglia. Sei diventata sorda. Se facciamo tardi il primo giorno di scuola, io ti ammazzo. Il primo giorno è un incubo. Sono così nervosa. Per voi è un giorno, per me è così tutto l'anno. Forza, matricola! Cerchio della vergogna! Forza! Non voglio rivivere il giorno più brutto della mia vita. Sai che cosa pensiamo di te? No. E non mi importa. Lo adoravo, questa community. Guarda! Guarda qua, le videocassette! Ragazzi, io ho 30 anni. Che faccio adesso? Come fai a conoscere tante cose? E piantala con questo argomento! Joel! Cosa puoi fare, Anita? Tornare indietro nel tempo e riscrivere tutto? Credimi, ti ho provato! Le persone non sono oggetti da aggiustare, capisci? So che vorrei essere già adulto, però... Beh, ovvio. Essere adulti deve essere... Magnifico! Ma se abri, io ho capito! E se abri, io ho capito! E se abri, io ho capito! E se abri, io ho capito! Reinstalare il sistema!